Con uno, la lestrezza di Ubi, con due, pendi, pendi, panda, e così è speed, poi c'è anche l'uomo pelote, poi Rocco Sifredi, poi Siondavarin, poi Tigreo, Rewi, 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 Tigreo, poi il semi-teamunista, e vedrai l'Italia il più favorito, Keiseltroth, attenzione, Keiseltroth, cavalli agli ordini dello starter, Prodi e posti! Quello volevo io! Quello volevo io! Quello volevo io! Quello volevo io! Il 9 rimane fuori di Keiseltroth, Keiseltroth rimane all'esterno perché è bravissimo! Fa niente, fa niente, la curva se la fa fuori, mi interessa. All'interno c'è Budist, Keiseltroth velocissimo, poi scappa via Junior Speed, già indietro Lobo Pelon, si trascina Junior Speed, si trascina Rocco Sifredi, poi Lobo Pelon in terza posizione, Poi vedrai all'interno tranquillo, poi Keiseltroth leggermente ha una seconda ruota, deve passare semi di Budist, Keiseltroth favorito all'attacco, dietro invece, Oh curva! Trova buona corda Tigrero che diventa pericoloso a questo punto, poi l'estretta... Basta! Curva! 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 Curva per vedrai, curva per Keiseltroth all'esterno, Keiseltroth non guadagna in questa curva su vedrai, anzi vedrai che cerca di leggermente, che guadagna qualcosina in questi 400 metri di curva, bravo vedrai, bravo vedrai che ruba qualcosina in questi 400 metri di curva. Ha già finito la curva! Poi Poison d'Avril di Lobo, poi Lobo Pelon, scusate di Rocco, poi in terza posizione Lobo Pelon, Poi vedrai, vedrai! Poi vedrai d'Italia Keiseltroth viene rischiato! Oh tigrero, mischia! Attenzione tigrero, forse se parte in questo momento può andarsi a bloccare! Parte vedrai! Nooo Nooo E adesso, commenta veramente, però non siamo bloccati nessuno, però adesso Aia, Lobo inizia a mollare, terza posizione 1.6, cazzo non venire addosso a me Lobo, perché mi cavolo? Forza, forza vedrai che lo passi, forza vedrai che Lobo non è a cazzo, ai 1.800 si riprende, dimmi che si riprende ai 1.900, ai 1.800 si riprende Mamma mia, meno male che quello, vai, vai, vedrai su Lobo! Dai, tieni vedrai! Attenzione se moller 6 di semi, Junior spinge! No, che si crea di semi! Scusa, mamma se molla tigrero, mamma se molla tigrero non fa tanto tempo, dai vedrai, non mollare, vedrai, è tutta... Vedrai col cuore, c'è Poison d'Avril, siamo tutti lì, siamo tutti lì! Un po', cazzo lobo è velocissimo con quel cavolo che riesce a 5.000 di agilità, ci credo, cazzo lobo ci fa, ma manca niente velocissimo! Però a questo punto manca pochissimo, non so pochissimo... Niente, Lobo è velocissimo, è impossibile andare a prendere! Cazzo ha Poison d'Avril, dov'è? Poison d'Avril! Gli Rocco si prende in pazzo, non ammettere, eccolo la! Eccolo la, attenzione, 300 al palo! Si decide il Varenna! Siamo in quinta posizione! Siamo fuori dalle medaglie! Ma lottiamo col cuore! Molla tigri, ma molla tigre! Cazzo tigre molla, molla tigre! No, molla tigre. Pocco molla, ecco lui! Dai vedrai! Sììììììììì! Vedrai! Prima! Grazie a tutti. Grazie a tutti.